Ho appena incontrato il custode del palazzo, mi ha parlato di strane presenze e dice che si sente come osservato. Avete mai sentito parlare dell'eccidio dei chiavelvi del 1435? È quello in cui in una sola giornata uccisero tutta la famiglia? Due di loro scamparono a quel massacro, almeno all'inizio. Vabbè ragazzi non vi incazzate, sono appena arrivato in via Cialdini, faccio io un sopralluogo veloce. A dopo. Grazie a tutti.